Ora abbiamo una rete ospedaliera che dal punto di vista quantitativo è a norma e quanto ha dichiarato l'assessore regionale pugliese alla sanità roccopalese all'indomani dell'approvazione dell'aggiornamento della rete ospedaliera pugliese per il raggiungimento del numero massimo di posti letto previsto dal decreto ministeriale 70 del 2015 implementandone 900 e destinati alla lungodegenza, riabilitazione, neurologia e urologia. La carenza di medici è un problema nazionale non solo della Puglia e va affrontato non come dice Palese, continua l'assessore regionale, ma come dice lo stesso ministro Schillaci che sostiene che occorrono altri 3 miliardi di euro per implementare il fondo sanitario assumendo medici italiani e non stranieri come è accaduto in altre regioni. Saranno assunti man mano che sarà necessario. Ovviamente abbiamo una carenza di medici a 360 gradi e che riguarda un problema nazionale ma questo non significa che l'istituzione di queste strutture, di quello che è stato disegnato non vada anche di pari passo con colleghi che nel frattempo si stanno laureando, con procedure di semplificazione per quello che riguarda l'ingresso nella dipendenza della pubblica amministrazione e quindi delle AS. Nonostante le difficoltà noi non stiamo prendendo medici cubani, cioè non stiamo mettendo i pugliesi in mano i cubani con tutto il rispetto, non stiamo prendendo medici e i gettonisti a 2 mila euro, a 3 mila euro, cioè quant'altro. Noi stiamo affrontando, cioè con le forze nostre, c'è una situazione, c'è veramente incredibile, che certamente non è determinata dalla responsabilità dell'attuale Governo regionale.